L'ospedale Tiberio Evoli di Melito di Portosalvo è stato protagonista di uno straordinario intervento di endoprotesi andato a buon fine su un paziente di 106 anni. Il nonnino originario di roccella ionica è stato condotto in sala operatoria a distanza di pochi giorni da una brutta caduta tra le mura domestiche con conseguente frattura al femore. Vincenzo Scalì, in nome del nonno centenario ed estremamente lucido, che ieri mattina è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico a cura dell'equip dell'unità operativa complessa di ortopedia e portato a termine dai navigati dottori Guido Zavettieri e Paolo Assuma. Allora, dottore Guido Zavettieri, ortopedia merito ancora un successo, possiamo dire, un cento cinquenne, centosei, centosei anni. Devo avere la data di nascita nella cartella clinica, ma è centosei, ad aprile ha fatto centosei anni. Ha avuto una frattura di femore? La frattura di femore è una sottocapitata che gli abbiamo messo un endoprotesi. intervento è un problema, bisogna vedere quali sono i pro e quali sono i contro dell'intervento e chiaramente sono sempre al 50%, il 50% che l'intervento può non andare a buon fine e l'altro è lasciarlo in quelle condizioni fino a che il signore lo tiene in vita, con il rischio di fare piaghe da decubito, broncopolmoniti e altre cose ancora, con l'allettamento intendo dire se non viene operato. Quindi lei ha fatto questa analisi? Ho parlato con i parenti e gli ho detto che la situazione è questa, se vogliono sono consapevoli dei rischi a cui andiamo incontro, loro sono stati d'accordo, l'intervento è andato bene, il posto operatorio sta andando bene, speriamo bene, ha centosei anni, non è che ha 70 anni o 60, quindi i rischi... La possibilità di recupero ha un anziano che subisce uno di questi interventi, cioè riuscirà a camminare? Noi ci proviamo, ma anche se non riuscirà a camminare completamente, almeno con un girello o comunque con restare seduto, dipende dalla sua volontà anche, dalla volontà del soggetto. L'osso chiaramente è un osso che è ormai osteoporotico, un osso non più di quelli buoni, però devo dire che è andato bene. Ma in questi casi mettete anche una protesi o soltanto un intervento normale? Una protesi l'ho messo. Ah, una protesi? Sì, sì. Ah, ecco, quindi potrebbe anche allora... Sì, secondo me io sono sempre fiducioso per queste cose, per cui attendiamo. Ecco, vediamo che sempre più comunque i cittadini dell'area grecanica, questo è della Ionica, la Rocella Ionica, preferiscono... Si vede che abbiamo fatto un buon lavoro con pazienti di quella zona, perché se vengono... Cominciano a capire che Melito, insomma, è un ospedale dove ci si può fidare, insomma, ci sono... Senz'altro. I reparti giusti dove si può anche essere curati. Sì. E lei come è? Soddisfatto? Stanco. Stanco? Grazie per l'intervento, perché è da stamattina che siamo qua a lavorare e sono le sei, quindi non è vero che non facciamo niente dalla mattina alla sera, come si può pensare. Lavoriamo più di due ore al giorno, insomma. Più di 50 minuti al giorno lavoriamo sicuramente. Bene. Complimenti, dottore. Grazie. Grazie a voi. Arrivederci.